Questo è il nuovo calendario. Cambia leggermente il calendario di conferimento rifiuti differenziati nella città di Catanzaro. Dal 18 dicembre carta e cartoni verranno ritirati di mercoledì, non più di giovedì, mentre plastica e metalli saranno rimossi ogni venerdì e non più di mercoledì. Nelle prossime settimane inoltre verrà attivato un centro raccolta permanente del comune in Viale Magna Grecia che si aggiungerà alle isole ecologiche itineranti sull'asse della città nord, centro e sud. È il succo di una conferenza stampa tenuta a Palazzo De Nobili dal neoassessore all'ambiente e dalla dirigente Sieco, la ditta appaltatrice del servizio. Molto buone ma non ancora ottimali le percentuali del capoluogo secondo Cavallaro e Mangiotordi, i quali hanno assicurato sensibilità verso le critiche dei cittadini ma anche dura lotta nei confronti di furbetti ed incivili. Questo nuovo piano di sensibilizzazione, questo nuovo piano che parte adesso e poi sarà successivamente approfondito, parte dal presupposto che noi dobbiamo aumentare la parte dei rifiuti differenziati. L'indifferenziato deve diminuire, l'indifferenziato costa e quindi noi dobbiamo puntare a diminuirlo. Cercheremo oggi di spiegarlo in tutti i modi che questo è un obiettivo primario che noi ci dobbiamo dare. L'indifferenziato è una cosa che deve diminuire, è inutile che ci si lamenta. Noi abbiamo cercato di ottimizzare con dei passaggi sempre in quell'obiettivo, se l'obiettivo nostro è sempre quello, cercare di minimizzare i costi nell'ottica di ridurre le tasse per i cittadini. Allora se è chiaro questo il nostro atteggiamento viene compreso. Nonostante il passaggio epocale anche culturale nella città di Catanzaro legato alla differenziata si leggono ogni giorno numerosi commenti critici e negativi. Il Comune è attento a questo tipo di affermazioni? Il Comune è stato già attento fino ad oggi prima che arrivassi io, lo sarà ancora di più, perché ho intenzione con l'anno prossimo di fare un'attività di sensibilizzazione nei confronti, partendo dalle scuole, parlando con gli amministratori di condominio, con la situazione di categoria, perché è giusto che siano coinvolti tutti quanti perché possono meglio comprendere qual è l'obiettivo che noi ci poniamo. L'obiettivo non è un obiettivo politico, il nostro, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, è un obiettivo di riduzione di spesa. Allora se noi coinvolgiamo tutti gli attori di questa situazione è più facile che non ci siano quelle polemiche che in questo momento stanno montando su tutti i social e che io sto attentamente valutando. Gli errori più comuni sono quelli di mettere materiale plastico tipo bicchieri di plastica o piatti che sono unti nell'indifferenziato. In realtà vanno solamente tolti i residui, i residui di cibo e il materiale che è all'interno. Quindi e questa è una cosa che abbiamo cercato di evidenziare nella nuova campagna proprio per evitare questo perché anche facendo i sopralluoghi o parlando con le persone ci è capitato di sentirci dire frasi del tipo ma il bicchiere sporco l'ho messo nell'indifferenziato che è un falso mito purtroppo che va sradicato in qualche maniera. Questo è uno dei principali errori così come anche i fazzolettini di carta sporchi che possono essere conferiti nell'organico. Quindi sono tutte quantità che in realtà aiutano le persone a fare meglio la raccolta differenziata e a non accumulare il secco residuo perché il secco residuo se la raccolta differenziata è fatta veramente bene è poco più di un sacchetto a settimana. Critiche dei cittadini secondo lei sono fondate? Dipende da quelli critiche nel senso che gli errori vengono fatti ed è un qualcosa di fisiologico sia da noi sia dai cittadini. Si deve cercare di migliorare entrambi. Non posso avere l'arroganza di dire che noi siamo perfetti però noi ce la mettiamo tutta. I cittadini la maggior parte fortunatamente altrimenti non avremmo avuto questi risultati ce la stanno mettendo tutta. In realtà ci sono anche delle azioni mirate per i cosiddetti furbetti di cui parlavate prima e già si è rilevata una serie di utenti evasori da anni e quindi già questo è un grandissimo risultato soprattutto per chi paga la tassa rifiuti. Io credo che Catanzaro sia il primo capoluogo di regione con una percentuale così alta nel sud Italia. Ci sono altre realtà grandi che hanno dei buoni risultati di raccolta differenziata però facendo una proporzione tra la popolazione residente e la percentuale di raccolta differenziata credo che siamo ai primi posti.